Tatiana Chugna era la prima coreografa di questi 11 capitoli con cui abbiamo iniziato che doveva appunto lavorare con noi in questo modo e poi in realtà quando siamo ritornati su questo lavoro non ha più funzionato è stato un momento anche difficile e delicato perché in fondo c'è un artista che ti dà fiducia che investe nel tuo progetto è una delle cose che troverete nel libro se mi interessa e se avrete la possibilità di sfogliarlo è che all'inizio c'è soltanto un'ombra un'ombra che è colorata e poi un po' alla volta invece appare il corpo come una specie appunto di investimento come un modo per entrarci dentro e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.